Tanta preoccupazione per nulla. Chi temeva cumuli di mondizia per la città di Bari a seguito dell'emergenza di scariche può tranquillizzarsi. Già da settembre, spiega il presidente dell'AMIU Grandaliano, conferiamo i rifiuti solidi urbani a Taranto dopo la chiusura della discarica di Trani. Il sequestro allunga solo i tempi di una situazione certo tampone, eccezionale. Taranto è un sito privato, chiuso nei giorni festivi e per questo c'è l'ordinanza di divieto, di conferimento. Nel giorno di stop Bari appare tutto sommato pulita, fatta salva a qualche eccezione. Colpa del solito indisciplinato incallito. Girando per i quartieri da Carrassi a San Pasquale, passando per i Rioni, Madonnelle e Murattiano, i contenitori dell'indifferenziato sono semi vuoti, anche se c'è sempre chi preferisce lasciare i sacchetti per strada. Pieni semmai sono i contenitori azzuli e gialli, con qualche intruso. Il sindaco incontrerà a martedì Vendola per rivedere il piano gestione e trovare un'alternativa definitiva per tutti i comuni della provincia. Quanto a Bari il primo obiettivo è non aumentare le tasse, incrementando la differenziata. Più si differenzia, più si riduce il carico in discarica, con costi più bassi. Da settembre ad oggi è passata al 26 al 33%, bisogna arrivare al 50%. Con tre condizioni. Da un lato quella di non aumentare assolutamente le tasse, anzi ridurla ai cittadini virtuosi o ai condomini virtuosi. Chiudere il ciclo dei rifiuti, perché guardate che se non si fanno gli impianti per chiudere il ciclo dei rifiuti, non si riesce a gestire in maniera efficace i rifiuti. Il terzo aspetto è quello di togliere o alleggerire il numero dei cassonetti presenti in città, soprattutto nel centro cittadino.